Grazie a tutti. Ci sono molti mesi di lavoro dietro questa iniziativa, come potete immaginare, tantissime persone che durante questi mesi hanno passato intere giornate, festivi compresi, per preparare questo bellissimo evento. Io vorrei ringraziare tutte le persone dell'amministrazione, del mio assessorato che hanno fatto questo lavoro, vorrei ringraziare tutti gli ospiti che hanno riempito queste nostre giornate e soprattutto vorrei ringraziare voi. Perché questa è stata anche un'altra bellissima prova di quanto la città di Torino, i torinesi e anche gli ospiti che sono arrivati abbiano dimostrato come, nonostante tutto e soprattutto in questi tempi, sia importante stare insieme, condividere passioni, dubbi, perplessità, ricercare insieme una strada. E vorrei simbolicamente per ringraziare tutti quanti con una battuta e ve lo chiedo proprio un applauso per gli oltri cento volontari che ci hanno accompagnato che ci hanno accompagnato in questi giorni, io credo con amicizia, ovviamente con gratuità e hanno consentito ovviamente di mettere in pista tutta la potenza, tutto il calore, tutta l'intelligenza che il Comitato Scientifico di Biennale Democrazia, come sempre, è riuscito a definire stabilendo il programma e vorrei infine ringraziare loro e il Presidente Zagrebeschi che appunto ci onora di essere Presidente della nostra bellissima Biennale Democrazia. Stasera concludiamo con una persona che credo voi tutti conoscete, mi limito a dire che credo sia tra gli intellettuali italiani forse una delle persone che attraversa di più, con capacità e intelligenza, anche con provocazione e con sorriso, diciamo tutti i generi della letteratura, dal cinema, diciamo tutti i generi su cui effettuare una riflessione. E l'ultimo incontro, l'ultimo di un percorso che abbiamo voluto costruire, che abbiamo denominato Dixit, che ha avuto durante queste giornate, ieri sera Alessandro Baricco, oggi Melania Mazzucato e stasera lui, per aiutarci in una riflessione intelligente e stimolante, come sa fare lui, sul tema dell'utopia. E quindi ci aiuterà, consegnandoci questo suo lavoro, questa sua fatica, a continuare a ragionare, diciamo per i prossimi due anni, perché noi fra due anni saremo qui, con la nuova edizione di Biennale Democrazia, non sorretti dal vostro affetto, io credo, e da questa bellissima città intendiamo andare avanti, e quindi io non faccio altro che ringraziarvi ancora, ringraziare lui della sua presenza, e chiamo e lascio il palco a Stefano Benni. Grazie. Applaudissements 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 Grazie a tutti. 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 il bonus. vitale. sono compresi. 70. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. naturalmente. come uovo. c'è chi? bonus. non si può. ecco. punto. un altro esempio. lei. simula. malattia, dottor. malattie. sull'altro. del precipito. assurdo. disse. silicone. accendendosi, ma, ma forse, chiesa, per alcuni. e utopia. per altri, per altri, di Agostino. o il niente, in nome di Dio. e, per gli uovo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.